Allora, buongiorno cari amici, già facendo un po' di video che sto mettendo sulla pagina, quindi sapete tutto, ma adesso siamo appena usciti dalla messa in italiano, ho fatto una riflessione e la riflessione è questa, a volte capita, guardate che belli campanili, mamma mia, a volte capita quando pensiamo di venire a Medjugorje, abbiamo la chiamata, quel desiderio forte nel cuore, poi mille problemi, mille impegni, per carità ci sono anche le cose serie, assolutamente, ma a volte invece ci prende semplicemente lo sconforto e magari all'ultimo uno non parte, ripeto, quando si tratta di cose importanti, non sono qui a sindacare, ma perché vi sto dicendo questo? Perché quando si arriva qua veramente si capisce quanto è importante esserci, quanto la grazia, la gioia, la bellezza, l'amore, quanto tutto diventa meraviglioso e quei problemi finti, presunti, veri, non veri, che possiamo vivere un momento prima di partire, ecco, facciamo parlare le campane. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, adesso che abbiamo fatto parlare il campane, continuo, questa è la bellezza di Medjugorje, essere qui non c'è nulla di meglio. Tra l'altro mi sono accorta, facendo le inquadrature del campanile, vedete quelle luci che si muovono molto, oh mamma mia, come che faccio, alle mie spalle? In realtà sono fisse, mi sono accorta che dal vivo sono fisse, ma nel video vengono così, vabbè, niente, un dettaglio. allora, ragazzi, se sentite la chiamata, non fatevi prendere da nessuno sconforto, non c'è nulla di più importante che venire ai piedi di Maria, qui dove lei scende viva tutti i giorni, per l'umanità intera. Santa giornata, Ave Maria.